Giovanni Paolo II ha rivolto specificatamente per tre volte la sua parola ai gruppi di preghiera di Padre Pio. La prima, sabato 1 ottobre 1983, quando ricevette in udienza una delegazione di circa 20.000 aderenti in pellegrinaggio a Roma, in occasione del giubileo straordinario della redenzione, che esortò a manifestare con chiarezza e con coraggio quelle che sono, cioè autentici e fervorosi cristiani, nella vita, nei comportamenti, nella speranza, nella carità. A distanza di due anni e mezzo, il cardinale Agostino Casaroli, segretario di Stato di Papa Voitila, ufficializzò il ruolo dei sodalizi oranti, nati a San Giovanni Rotondo e ormai sparsi in tutto il mondo, approvando il loro statuto. Il pontefice si rivolse nuovamente ai gruppi, sempre a Roma, nel 1988, durante il pellegrinaggio di ringraziamento delle diocesi della provincia di Foggia per la visita pastorale dell'anno precedente. E nel 1990, in occasione del quarantesimo anniversario della loro fondazione, in quest'ultima circostanza, Giovanni Paolo II invitò gli aderenti a seguire l'esempio di Padre Pio e in particolare ad imitare la sua costante ricerca di intimità con il Signore, poiché questo è l'unico segreto della vita spirituale. A loro, infine, Papa Voitila fece un rapido accenno, anche durante l'omedia della messa per la beatificazione di Padre Pio, per poi parlarne in maniera più ampia nella celebrazione eucaristica di canonizzazione. La ragione ultima dell'efficacia apostolica di Padre Pio, della lice profonda di tantra condizia spirituale, si trova in quella intima e costante unione con Dio, di cui erano eloquenze le lunghe ore, la scorsa in preghiera e in confessionale. Amava ripese sono un povero frase che prega, un vinto della preghiera e la migliore alma che abbiamo. una chiave che apre il cuore di Dio, questa fondamentale caratteristica della sua spiritualità continua nei gruppi di preghiera. da lui fondati teofrono alla Chiesa e alla società il formidabile contributo di una orazione incessante fiduciosi.